Daniel Tononi a commentare questo 0-0 con il Mantua, quarto risultato utile consecutivo, forse anche i tifosi si aspettavano però i tre punti, ci avete fatto soprattutto nel secondo tempo. Sì, ci servivano questi tre punti, li abbiamo cercati fino all'ultimo minuto, abbiamo fatto una buona gara ma secondo me è mancato solo il gol. Difesa inedita quella di questa sera però avete concesso veramente poco gli avversari. Sì, penso che gli avversari tra primo e secondo tempo hanno fatto due tiri fuori dallo specchio della porta, secondo me non sono stati per niente pericolosi a parte quelle due occasioni tirate fuori. Il vento coniziava dalla partita? Il vento un pochino sì, magari si rinvide il portiere, magari cambiava un po' traiettoria però nulla di che secondo me. Sull'episodio alla fine tu lo hai visto? Ormai è andato questo episodio però secondo me c'era rigore netto, anche perché ha proprio tolto la scarpa, non l'ha solo scambettato, però ormai non si può fare più nulla. Hai fatto un bel duello fisico per pensare, ad ora c'è una categoria molto fisica questa. Sì, ogni partita ti aspetta un avversario sicuramente fisico e come questa partita magari ancora di più. Stai tornando sui livelli all'inizio del campionato? Sì, sto tornando a quei livelli anche perché ho passato un periodo un po' no, dove mi sono infortunato parecchie volte, però adesso mi sono ripreso. Bene, bravo, bravo. Prego. Ciao.